e benvenuti a questa nuova puntata di retro gaming corner allora per questa puntata ho deciso di non fare il solito gameplay della rom vecchia vecchia ma di fare una presentazione in cui tratterò la top six dei titani cioè no la top six la top seven vogliato io scrivere comunque va bene lo stesso anche perché alla fine è un po top six perché il sesto posto è affidato a un titano che fa una classe a parte quindi si top six top six va bene comunque appunto tratteremo questa top six dedicata ai titani di crash of the titans un gioco della serie appunto di crash bandicoat da molti giudicato uno sfondone un flop non so usate tutte le parole che vi pare però secondo me secondo un altro mio amico che mi ha appunto fatto avere questo gioco lo ringrazio tantissimo grazie gianluca per avermelo regalato è un gioco bellissimo ecco è davvero bello e non a certo non è al pari del del crash bandicoat originale però comunque è bello ecco insomma e per uno che da bambino è sempre stato affascinato dai gormiti l'effetto è ancora migliore in pratica cosa abbiamo in questo gioco semplicemente crash bandicoat che è un videogioco platform come super mario possiamo dire in questo gioco e nel remake mind over mutants praticamente potrà cavalcare degli animali molto forti che sono appunto i titani che sono degli animali mutati grazie alla magia nera e alla tecnologia di cortex di cortex che è il nemico di questo gioco e di tutti gli altri giochi di crash bandicoat allora in questo video parleremo di una classifica realizzata in base ai dati presenti nel primo di questa di questa serie di spin off diciamo cioè crash of the titans e prenderò in esame le mosse presenti in quel gioco quindi anche se ci sono le immagini non le immagini ma beh ecco così gli sprite dei titani sia di questo gioco sia del remake io parlerò adesso esclusivamente del primo e poi farò una classifica parte anche per il secondo perché nel nel secondo alcuni titani spariscono ne vengono reintrodotti di nuovi quindi non sarebbe stato troppo complicato fare una una top che comprendesse tutte e due giochi comunque partiamo allora il il primo titano che abbiamo è l'elefant drago allora in pratica prima di iniziare vi do un consiglio come vedete ci sono ho scritto tutti i dati interessanti su ogni titano io ovviamente non mi metterò a leggere tutto quello che ho scritto perché perderebbe un po di senso mi limiterò a sintetizzarvi quello che c'è scritto per chi vuole vi consiglio cioè per chi vuole gli consiglio di leggere di leggere quello che c'è scritto intanto e anche per chi non capisce perché ho cercato di essere il più esplicativo possibile esplicativo sì si può dire comunque iniziamo allora l'elefant drago tutti mi dicevano è ma che che cazzo lo metti a fa l'elefant drago è una merda e tutto il resto allora in effetti l'elefant drago anche se è classificato come categoria capitano e ce ne sono solo due nel gioco lui e lo scorpio rilla si in effetti è una mezza merda ma secondo me ha due punti di bregio allora per quanto riguarda gli attacchi normali cioè sì è il titano più forte presente nel gioco però insomma gli attacchi normali non ne vale la pena ecco la velocità non ne parliamo è veloce quanto una lumaca ora quali sono allora i due punti di forza beh appunto sono da come si legge la mossa speciale che è una fiammata che si carica con poco tempo e vi permette di spaziare con un raggio d'azione di 360 gradi a seconda di quanto girate la levetta analogica sinistra e appunto è la mossa più potente che c'è nel gioco che supera anche il terremoto dello scorpio rilla e la raffica di vento del combattente ed è utilissima se siete circondati dai nemici perché proprio l'incendiato tutto intorno e poi la resistenza infatti questo titano è molto resistente anche se ovviamente non può tenere il passo con il combattente ma adesso non stiamo ad anticipare troppo e appunto è molto resistente ecco quindi guardate a me appunto ho messo un esempio sulla resistenza che mi è successo veramente mentre giocavo è questo che in pratica questo titano ha resistito proprio all'assalto di tre combattenti che usisevano mostre speciali che non è un fatto assolutamente da poco ma comunque ecco per questo ho deciso di metterlo nella top ten anche perché non c'erano altri titani che meritassero questo onore ce ne stavano di più bilanciati ma ecco non ne erano degni ecco bene sesto posto anguilla elettrica allora è questo il titano che dicevo prima che fa eccezione perché essendo una di classe proiettile cioè uno che attacca dalla distanza è un po' una classe a parte nel senso che mentre quelli di categoria capitano e guerriero attaccano tutti di attacco fisico e attaccano tutti appunto di attacco fisico tranne magari se hanno le mosse tipo speciali ma comunque è prevalentemente attacco fisico mentre quelli di categoria proiettile sono tutti hanno tutti gli attacchi proprio dalla distanza sono come i fucili da cecchino di Call of Duty che sono bestiali da distanza praticamente inutili da vicino ma comunque l'anguilla elettrica sta qui perché tra quelli di categoria proiettile è il più forte allora è molto potente è davvero molto potente il tiro è lineare ha un'ottima precisione la mossa speciale è una bella scarichetta di fulmini provienti dal cielo lineare molto potente soprattutto se l'ha utilizzato in luoghi come i corridoi e per la resistenza anche se è un titano di tipo proiettile ha una buona resistenza però comunque se andate lì vicino anche solo con crash da solo proprio gli aprite il culo comunque ecco ma comunque insomma nel generale è un buon titano allora ora qui cominciamo con la parte degli dei titani che aprono i culi allora numero 5 melmoso allora questo qui è sempre in categoria guerriero è molto forte ma qual è il punto è molto forte ha un attacco normale buono in combo l'attacco spacca difesa non è che serva molto la mossa speciale se la sapete usare è molto buona e e poi la resistenza è medio-bassa ora voi mi direte però una resistenza medio-bassa come abbiamo detto prima per il titano proiettile espone il titano ai pericoli si questo è vero però il melmoso ha una carta particolare e la leggete nella parte sottolineata in verde che questo titano ha la straordinaria capacità di potersi tramutare in melma strisciante sul pavimento ergo è davvero molto elusivo infatti vi può capitare che voi state per casciarle e questo che vi fa si immerge nel pavimento e poi vi attacca da da dietro e quindi c'è proprio una zona in cui vi attaccheranno dei melmosi in gruppo in cui perderete sicuramente delle vite e questo è in modalità facile e vi appunto apriranno il culo ecco poi continuiamo a per quanto riguarda la velocità è medio alta buona velocità poi andiamo sul quarto il ratto ghiaccio anche questo apri culi infatti lo troverete molto avanti nel gioco anche lui è un guerriero la ha una forza elevata maggiore di quella del puzzone la velocità del melmoso cioè la velocità è alta è pari a quella del puzzone che è il più lento dei dei titani di classe proiettile allora per le combo guardate leggete direttamente lì sul sulla pagina perché è spiegato benissimo mentre io intanto spiego la la mossa speciale in pratica questo topino qui di ghiaccio congela semplicemente mezzo campo di lotta i ghiaccioli della mossa speciale inseguono il nemico se tenta di sfuggire inoltre quando lo congelate gli fate danno inoltre gli potete andare vicino e torturarlo inoltre quando il ghiaccio si scongela produce un piccolo danno al nemico che lo fa addirittura a tenternare quindi voi potete ancora di più infierire insomma è una cosa copia ecco appunto è per massacrare il terreno questo questo ratto infatti sarà un altro livello in cui vi attaccheranno in gruppo e poi bestemmerete nelle più famose nelle più diffuse lingue del mondo ecco appunto per i raggi d'azione c'è appunto la mossa speciale che è quasi tutto il campo la resistenza media resistenza usa tantissimo le mosse di blocco infatti appunto dal numero cinque in poi entriamo nella fascia dei titani che appunto vendono cara la pelle cioè che non si catturano facilmente e ecco attacchi molto veloci ecco appunto non c'è altro da dire mentre che cavolo aspetta aspetta eccolo qua mentre rino rotante avevo ero subito balzata alla fine della presentazione comunque numero tre rino notante allora questo qui lo adorerete perché lo adorano tutti per la semplice ragione che è quello più bello da usare infatti c'è ha una forza bestiale c'è è l'unità rotolante che non può mancare nei giochi perché andiamo su parliamoci chiaro a chi di voi non piacciono quei personaggi che rotolano tutti i coperti di spine che aprono i culi aprono i culi peggio di non so chi è questo il rino rotante è questo è semplicemente un misto di tigre alcuni dicono armadillo e rino ceronte con corazza di spine e rotolamento semplicemente questo non dovete sapere nient'altro sul rino rotante i dati che ci sono scritti sono puramente tecnici voi l'unica cosa che dovete sapere è che quando rotolate con lui cioè quando attivate il rotolamento non vi ferma più nessuno inoltre se attivate il rotolamento con X cioè il rotolamento speciale vi dura un bordello e fate un macello sul campo di battaglia e ci sono pure i percorsi in cui userete esclusivamente questo titano in cui il rotolamento sarà infinito quindi proprio lo lo adorerete inoltre nel 2 ci sono anche ci sono sempre i percorsi per lui e questi percorsi sono disseminati di bordelli pieni di aura che vabbè sarebbe tipo le monete di questo gioco ma non è praticamente esatto ma comunque insomma anche questo vede caravelle insomma è troppo forte ecco c'è poco cosa dire oh invece combattente adesso non vi spaventate per tutto quello che ho scritto ma sul combattente ci va tutto questo scritto perché con tutte le cose che fa cioè è meglio anche del rinorotante tra un po' e allora anche questa categoria guerriero è il più forte di categoria guerriero vi dico che se non imparate ad usare questo titano nel gioco non andate avanti quindi da quando lo trovate se non imparate ad usarlo non andate avanti nel gioco perché questo vi sarà indispensabile è già difficile da usare in modalità facile quando lo catturerete vi farà un po' di storie questo ho notato che neanche lo Scorpio Rilla vi fa le storie cioè il combattente quando voi lo catturate nella maggior parte dei casi vi fa le storie cioè per un po' perde tempo a fare i versi mentre cosa che invece gli altri non fanno quasi per niente quindi ecco è come il classico toro della situazione non è per niente facile da gestire ma questa cosa della facilità di gestirlo cioè della difficoltà di gestirlo è ricambiata dal fatto che scusate stoppo un attimo che ho un problema rieccomi in pratica dicevamo che la difficile catturabilità diciamo del combattente è però compensata da una potenza dir poco bestiale perché con questo perché con questo titano già solo con la mossa spacca difesa fate i culi quindi quindi proprio cioè magari leggetevi i dati che stanno scritti qui ma ecco non ci stanno commenti per la forza di sto coso semplicemente vi dico che per fare i culi basta che usate la mossa spacca difesa poi se volete proprio fare i pro cimentatevi nell'imparare la combo d'attacco normale per quanto riguarda il crashamento dei titani forti e dei titani boss andate con la mossa speciale di questo mega pipistrellone lì ecco basta non dovete fare altro mirate colpite e premete cerchio ecco per quanto riguarda è difficilmente catturabile la mossa speciale consiste in una raffica di vento che crea dei tifoni molto potenti che anche persistono nel campo di battaglia infatti se voi fate questa mossa in un in un corridoio o comunque in un'arena oltre alla forza d'impatto che avranno i tifoni sul nemico i tifoni se andare a sbattere contro una parete e il nemico è davanti alla parete i tifoni continueranno a tormentare il nemico quindi gli faranno ancora più danni quindi per quanto riguarda il combattente ecco c'è solo questo da dire è molto buono in alcuni percorsi viene appunto richiesto di guidarlo perché grazie alla sua planata che oltre ad essere un attacco è anche una mossa utile per planare piccole baratri appunto vi servirà nel corso del gioco per avanzare e ora andiamo al primo posto lo scorpio rilla allora lo scorpio rilla non c'è roba da dire come per il combattente quindi questo non vi preoccupate allora già innanzitutto capite abbastanza dalla cosa scritta in giallo che lo scorpio rilla non è fatto per realizzare le combo come magari sono fatti altri titani no lui è attacco attacco singolo iperdistruttivo e spacca tutto proprio non puntate le combo quando combattete con lui ecco la sua categoria è capitano infatti è bestiale è il titano più potente del gioco di fatto anche per sia per la sua mobilità sia per sia per la sua mobilità sia per la sua potenza la sua forza è superata assoluta quella dell'elefant drago ma parliamo proprio di pochissimo ha dei raggi d'azioni incredibili che non scendono sotto ai 100 gradi quindi le sue combo sono praticamente volte a ripulire tutto il terreno dalla feccia nemica infatti la combo d'attacco normale è spazzata con la mano spazzata con la coda punto per ripulire tutto il campo quindi quindi se infatti questo titano dà il massimo se è accerchiato se vi fate volontariamente accerchiate poi fate o l'attacco normale o x massacrate tutti quindi proprio la mossa spacca difesa non è tanto utile non la userete quasi mai magari per compiere qualche bersaglio un posto sopra le porte ma proprio rarissimamente ecco la mossa speciale è praticamente un terremoto questo salta terra sul terreno questo qui da come vedete peserà minimo una tonnellata fa un bel terremoto che distrugge tutto eccolo ci sta poco da lì con questa mossa riesce a stordire con un colpo l'arachnina che è il titano che è un titano boss che è quello più forte del gioco presente nel gioco ovviamente lo scorpio rilla è il titano più forte del gioco ma per i titani quelli giocabili cioè anche i titani boss sono giocabili però ce l'avrete solo in un livello mentre lo scorpio rilla lo trovate in mi pare tre o quattro livelli quindi quindi è giocabile l'unico inconveniente dello scorpio rilla può essere la velocità però non è lento come l'elefant drago diciamo che se giocate a modalità difficile risulta il più veloce tra i giganti e un altro inconveniente è il fatto che prima di fare il terremoto perde un po' di tempo a fare il verso del gorillone quello con cui si batte il petto con le maniche e quello lo espone ai pericoli ecco per quanto riguarda la catturabilità già solo la resistenza è un muro altissimo perché tipo se giocate con crash cioè se voi lo attaccate con crash da solo cioè ci mettete minimo sette calci rotanti a potenza massima per mandarlo giù quindi proprio in più usa le mostre di blocco e poi c'ha sti attacchi bestiali che insomma insomma è è iper sgravo ecco e e credo che volendo potrebbe anche battere l'arachnina però perché la stordisce col terremoto poi l'attacca si si potrebbe anche battere l'arachnina ma questo non potrebbe succedere cioè ma questa statistica potrebbe batterla ma non credo che l'arachnina possa essere battuta per il semplice fatto che i titani boss non possono essere ammazzati ecco ma questo qui è un discorso a parte però se volete va ve lo faccio tanto ormai stiamo registrando da un pochetto quindi ve lo faccio si in pratica le battaglie boss di crash bandico non saranno le classiche battaglie boss che voi vi immaginate che dovete ammazzare il titano no voi dovete indebolire il titano boss fino a farlo stordire poi premete cerchio quindi salite sopra e lo comandate quindi con il titano boss dovete distruggere degli obiettivi che sono appunto nei livelli del boss che possono essere ingranaggi colonne oppure colonne dell'energia a seconda del boss e poi appunto ogni volta che distruggerete un obiettivo ce ne sono tre per ogni boss ogni volta che distruggerete un obiettivo automaticamente il titano boss si libererà dal vostro controllo Ergo lo dovrete ricrasciare e distruggere gli altri obiettivi a quel punto distrutto l'ultimo obiettivo vincerete automaticamente la battaglia boss e non dovrete fare nient'altro ecco in questo il gioco è questo il gioco è abbastanza particolare perchè anche io mi sono sorpreso del fatto che le battaglie boss non consistono nelle classiche battaglie boss di molti giochi ecco comunque il video è finito ho detto appunto quello che volevo dire appunto per crash mind over mutants che al seguito realizzerò un'altra top 6 un'altra un'altra top non so di quanti titani non mi chiedete quando ci sarà perchè già ho tante idee che mi frullano in testa in più c'è un po' la scuola non lo so insomma mediamente un video alla settimana lo sforno ma può essere pure che la top appunto del seguito ve la sforno tra un mese e mezzo ecco ma non c'ho non c'ho ecco date di scadenza precise quello solo sui gameplay tendo a fare i video punto in sequenza ecco appunto per quanto riguarda la 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 presentazione se la volete insomma se volete appunto questa preservazione come file da tenervela perché vi piace non so perché è fatta bene perché vi interessa insomma non lo so ditemelo e io cercherò di capire come mettervela su internet in modo che ve la possiate scaricare comunque se la volete appunto ditemelo e poi io mi adopererò al appunto per permettervi di fare questa cosa bene immagino che mentre io mentre io ho detto queste cose e abbiate letto quello che c'è scritto in questa pagina la classica chiusura di ogni video bene detto questo vi saluto da dal canale di Francesco Maria Blasetti oppure Onyxo non lo so chiamatemi come vi pare è tutto ciao